Sanremo Live, in collaborazione con Spina Santa, in via Stadio 3, a Melito Porto Salvo. I cuori, bulci, miele, marmellano, ilimitabile re delle bibite al bergamotto, il bergotto. Celleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frollata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Vuoi trovare i prodotti scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà, magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo. E buonasera, tra un aperitivo cos'è, mi pare, del Camomilla abbiamo trovato Giovanni Caccamo. Siamo qui al Festival di Sanremo 2018. Giovanni, come stai? Molto bene, molto bene. Carico, non vedo l'ora di salire sul palco per poter cantare Eterno. Eterno. Questa è la terza volta al Festival di Sanremo. Hai vinto, ho il terzo posto. Cosa ti aspetti? Guarda, mi aspetto, il mio desiderio è quello di inondare le case degli italiani di amore, di bellezza, perché credo che possa essere l'unica chiave per sconfiggere questo pessimismo, questa negatività, questa crisi che non se ne può più. Ammiarci. Ma si parla proprio di questo amore eterno, ma esiste, quindi il brano, ricordiamo, Eterno, esce l'album che si chiama Eterno. Il 9 febbraio. Ma lo hai scelto in concomitanza con San Valentino? Ma guardate, se vi va di acquistarlo per San Valentino mi sembra un'ottima occasione e soprattutto dicono, questo non lo so, dicono che acquistando l'album di Caccamo, anche per i single, di lì a pochi mesi si trovi l'amore. E uno ci si sposa, subito, uno ci si sposa. Ma quello non lo so, insomma, ve lo auguro, se dovesse essere un amore eterno. Cosa, c'è una cosa particolare in questo album, questo cofanetto? Sì, c'è un sacchettino, per i primi 5.000 che lo acquisteranno c'è un sacchettino di carta con dei semi dentro, di zinia, che è un fiore, che è il fiore delle relazioni eterne, e quindi potete coltivare, piantare questi semi e nascerà una pianta magnifica. C'è anche una curiosità sul tuo nuovo look, no? Che è nato, io ho letto, non ti sei accorto neanche che cresceva la barba e i capelli, poi ti sei visto e ti sei piaciuto, quindi com'è nato? È nato perché l'anno scorso ho iniziato a scrivere questo album e per quattro mesi sono stato chiuso in camera a scrivere, poi a un certo punto mi sono visto allo specchio e avevo questa barba e ho detto, ma la terrò a testimonianza di questo periodo di creatività. E ti è piaciuta? E mi è piaciuta, sì. Ultima domanda, ho letto che hai fatto una cosa particolare, sei andato a fare un po' di live a domicilio, per quale motivo? Perché credo molto nel rapporto tra le persone, nelle relazioni, nello scambio emotivo, quindi per me i concerti sono sempre uno scambio. Io sicuramente cerco di dare tutto me stesso con la mia musica, ma anche il pubblico deve poter interagire con l'artista, fare delle domande, quindi la casa è sicuramente l'ambiente migliore per poterlo fare. Noi ti ringraziamo, dobbiamo ricordare che possiamo votare Giovanni Caccamo, quindi facciamo un appello ai nostri amici di Melito TV. Cari amici di Melito TV, votate Giovanni Caccamo Eterno e soprattutto acquistate l'album dal 9 febbraio in tutti i negozi, Eterno. Un bocca al lupo Giovanni. Ciao, vive il lupo, ciao ciao. Ciao, vive il lupo. Emo Live.